Benvenuti in questo nuovo video di Minecraft, quest'oggi torniamo a giocare a indovina chi con versione youtuber, non si è capito niente In compagnia di Kendall e Carly, siamo due contro due E vedremo un po' chi la spunterà Come sempre, se vi ricordate, bisogna prima di tutto scegliere gli youtuber, quindi direi che è il momento Allora, ovviamente noi Diteli a voce alta, grazie, sì sì, scegliete Sì, scegliete Allora, io ho scelto Lorenzist Ok, perfetto Allora, vai a fare la tua scelta Io mi adatto di conseguenza, voglio essere intelligente Vediamo un pochettino Ho scelto? Sì, è comparsa qui la mia scelta, perfetto Ok, allora, devo fare una scelta intelligente Io ho scelto Anch'io ho scelto Aspettate Dai, Steph Siamo stati furbissimi, Carly Cosa? Siamo stati furbissimi, perché guarda Sì, sì Ok Quindi fai una bella scelta Hai visto, Fere? Ok, ok, mi piace Che ridere se tutti e quattro abbiamo scelto le stesse teste Avete scelto, giusto? Startiamo? Sì, abbiamo scelto Ok, vediamo chi inizia Allora, i primissimi round non facciamo domande OP Tipo tutti i maschi, tutti i femmine, queste cose Ok? Le teniamo per un po' più avanti All'inizio cerchete di fare domande molto più specifiche Va bene, signor Duttellino E poi piano piano Ok, la prima domanda dovete farla voi Allora, cara Carly Che cosa vogliamo chiedere? Avete una sola domanda Non, avete solo una domanda Ok, ah, una domanda sola Anch'io pensavo due Allora scegliamola insieme Che dici? Accessori? E se indossa qualcosa in testa In testa? Ok, fammi vedere quante persone hanno le... I cappucci contano come cosa in testa? I cappucci, i cappelli, i occhiali Senti come ragionano Ok, quindi indossa qualcosa in testa? Contano sia capelli, sia occhiali Cappellini, corona No, 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 i capelli non contano No, 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 capelli, capelli Quindi capelli, cappucci Esatto Ok, anche la fascia, bandana Ok, allora Sì Per entrambi Per entrambi Per entrambi Quindi potete togliere ad esempio un Lorentzist Carli, possiamo toglierla Esatto Ok, Lorentz Beh, non hanno fatto una brutta domanda Però, eh Insomma, bella faccia Bella faccia No, 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 invece intelligente Togli i bandi Guarda che buona, eh Eh sì, guarda Sì, però siamo stati sfortunati Perché ce ne sono ancora tantissimi con gli accessori Sì, ok Ma la prima domanda hai tolto metà delle persone Questo Ok E Fabi Gelo contiamo come qualcosa in testa Sì, perché ha la bandana L'occhio invece era giusto toglierlo Mi sa che li avete beccati tutti Sia o non c'ha nulla in testa Sia o non c'ha nulla in testa Sia o non c'ha nulla Togli pure Allora, non c'ha nulla Togli Ok Perfetto Ok, niente male Cin cin Più o meno, dai Va bene, va bene Premette pure fin around Fin around lì dietro Così puoi toccarlo Perfetto Eh, ciao Salve Allora, Steph Sei tu quello bravo con le domande Quindi io lascio a te Perché io faccio sempre domande stupidissime Non sono brava a sto gioco Prova a spiare Ale Prova a spiare Vediamo anche noi se lo vediamo Scusa Perché lì ci sono i mostri Allora Indossa almeno qualcosa di nero Possono essere i capelli Possono essere gli occhiali Quindi allora qualcosa di nero In tutta la skin Ok Quello intendi Cioè tipo sì Lorenzista è comunque nero Sì Beh, un pinguino Meno male quel colore Va bene Tecnicamente sì Uno sì L'altro no L'altro no Ai 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 Siamo fregati, Steph Ai 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 Perché non Doveva essere una domanda Un po' più specifica Cioè più generica Ci stiamo fatti male Stiamo vincendo Sì Secondo me sì Sì Allora Perché adesso non li puoi togliere Perché se l'altro non ha niente di nero Allora Me lo segno Me lo segno Uno Un pinguino lì vicino La scrivania Esatto Scrive tutto Allora I personaggi che avete scelto Hanno Un qualcosa Nella loro skin di giallo Tipo anche Fabi J Ha un po' la carnagione Gialla No però aspettate La carnagione gialla No La carnagione No però giallo Veramente giallo 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 Allora Quello è arancione Anche Marci Vabbè dai Sì Marci ha del giallo Big Ladro è arancione E anche Fabi J non vale Perché comunque è la carnagione Comunque Vi dico Uno sì E uno no Lo sapevo Lo sapevo Uno sì E uno no Fine round Grazie Per essere una domanda Che ce ne fa togliere Allora Stiamo vincendo noi Intanto Cin cin Sì più o meno Ok Posso? Non lo so Perché prima hai fatto schifo Lo so Vai Prova Allora È un animale Uh questo è bello Per animale si intende anche Kendall Cioè Kendall è un animale No secondo me tu non sei un animale No tu hai il costume Non sei un animale Cioè tipo bella faccia Stiamo parlando solo di Lorenzista e bella faccia Ok comunque vi siete fregati Perché la risposta è no per entrambi Perfetto invece Sono molto soddisfatto Ne togli pochissimi Tranquillo Ok Ok ha qualcosa in mente ragazzi Non so cosa sia Tu stai sciallo Tu speravi che fossero quei due Sai che Io ho un po' di paura Di queste tattiche Di step Va vabbè Ho paura Allora Osserviamo bene le teste Cerchiamo di capire Uh ho una domanda Vai Aspetta Prima di farla C'ho una domanda Carli che potrebbe essere Ok allora facciamo così Falla Voi non rispondete Ti dico se Ok vai Va bene Va bene Va bene Allora Posso farla Sì Prova Ha più di un milione di iscritti su YouTube Eh ma io non so Ma scusa Eh io la so io li so tutti Va bene ok ok Una bella domanda Ha più di un milione di iscritti su YouTube Devo googlare No Ma come di No no Steph io la so Aspetta 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 Forse di uno ho il dubbio effettivamente Io uno ho capito chi è Ok 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 Uno ho capito chi è Hanno più di un milione di iscritti Uh la la Tutti e due Tutti e due Quindi via loco Eh vedi era come immaginavo Via Nico Via Francicoso Bigladro non è un milione Bigladro non ce l'ha Via Emerald E Mark ce l'ha Mark no Mark no Mark no Che poi li sto aiutando a togliere le teste Io penso di sapere Ovviamente se tu dici Hai finito e perso eh No io continuo Continuiamo con le domande Ok Aspetta Vabbè Hanno fatto degli errori Dici Perché Eh hanno lasciato delle teste Che non hanno un milione di iscritti Vabbè in caso le possono togliere dopo Beh le togliete dopo Il ragazzo aveva fretta Ma no avevano tutti un milione No 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 Allora Ah gli occhi blu E per blu si intende Blu o celeste Uno sì Uno no Dai però ragazzi Ma non è possibile Ma che vi devo dire Sono tutti Allora me lo segno E cosa serve segnarlo Ci sono tutti Tranquilla fare Allora ragione Dobbiamo togliere Jenny E che noia Anche se a che noia manca pochissimo Esatto Però Ok Ah vabbè allora aspetta Allora ti ricordi che nella domanda di prima Era già qualcosa di giallo Quindi o sbrizer o marci Uno Però aspetta Steph ha avuto molto da dire su fa vj Ha detto Eh no Però la carnagione Sì però Però comunque Resta uno che ha il giallo Quindi secondo me Tipo Uno fa vj E l'altro sbrizer o marci Ha del blu nella skin Perché in questo caso eliminiamo Uno due tre Se non ce l'ha Ha del blu nella skin Qualsiasi tipo di blu Però stiamo parlando solo della testa Della testa certo Ok Quindi anche gli occhi Eh sì Ha del blu Ha del blu Quindi marci lo possiamo togliere Tutte e due Sì Eh sì Oh cavolo Ah ho capito Carli ho capito Ti fidi di me? Le volete dire? No Rischi di perdere Sei sicuro tu di sta cosa? Però va bene Aspetta Gli occhi di Robby Sono blu Sono blu È sempre considerato nel blu Secondo me Hai cinque persone Due nomi Io posso dare una risposta però Soltanto se mi dite che non è ufficiale Ce la voglio dire solo per dirla No Se la vuoi dire a caso per dirla Fai pure Però senza confermarla Eh non è confermata Ok Secondo me È Sbrizer E Favij E Favij Secondo me sono quei due Va bene Allora Sono femmine No No Nessuno? Entrambi maschi Ok Però vedi che fortuna Se loro al prossimo round Non ce la fanno Io dovrei riuscire a indovinarli Però ne abbiamo ancora tantissimi Tranquilla Questa l'abbiamo risolto Abbiamo più risposte di quanto pensi in realtà Lui ci sperava che fossero femmine Ok Beh ne avremmo tolti molti dici in quel caso Allora In realtà se avessi stato peggio Se sei stato in nuovo uno su uno no Prego andate Divertitevi Guardiamo bene le skin E cerchiamo di capire Carly Ah sto crashata No No Aspettate ritorno Ma è tanto procedente Sì infatti tanto Potremmo sfruttare la questione dell'età Giusto Ok Allora A più Di Eh ma aspetta Ma io che ne so di che età Io raga non so l'età di nessuno Ma come faccio a sapere l'età Hanno più di 25 anni? No non le so davvero No io non le so raga Davvero Dovrei googlarle tutte praticamente Io non me le ricordo l'età degli altri Allora Roby Roby alla mia età Roby non ha 25 sbrizer neanche Ti posso dire questo Gli altri tre sì Più di 25 Ok Uno sì Uno no Porca miseria Aspetta però E siamo sempre lì Uno sì E uno no Allora uno è sbrizer sicuro Perché c'è il del giallo C'è il giallo quindi è sicuro Dobbiamo capire l'altro Eh però se fosse l'altro Ad essere giallo No non ha giallo l'altro Non ci sono altri Beh vabbè Quindi l'altro è quello che ha più di 25 anni Posso essere io Steph E spazzato Quindi togliamo Roby Non hanno risolto niente Della loro vita No no abbiamo tolto Roby Abbiamo tolto Roby Vai Eh stai rischiando Freda vuoi farla tu questa domanda? No io ormai non me la sento più Cioè che devo Cosa devo chiedere? Vabbè io se vuoi la sparo però Il problema degli accessori È che ci possono dire uno sì o no Eh se ci dicono uno sì o no Siamo fregati lo stesso Lo so Lo so Sai cosa possiamo fare? Possiamo puntare Ad eliminarne pochi di nuovo Hanno qualcosa in testa Che sia cappello Facetta Barattolino Sì Entrambi Entrambi Ok Questa è stata una bella domanda però È quella che volevo fare da due ore Rischiavamo Fere È a fortuna in realtà Eh lo so Steph Però se no non ne caviamo piede E anche Baddy Anche Baddy va tolto Guarda ci sono delle panchine super comode Mentre aspettiamo che loro perdono Allora Fere Studiamo un attimino Li abbiamo tolti tutti Dobbiamo decidere se sparare adesso Noi sappiamo Che uno ha qualcosa di nero nella skin E l'altro no Ok E sappiamo anche Cos'è l'altro uno si uno no che mi sono scritto? Il blu mi pare Giusto Il blu Giusto E quindi cosa sappiamo? Che uno ha qualcosa di nero e l'altro no E poi? E che uno ha qualcosa di blu e l'altro no E uno ha qualcosa di blu e l'altro no Allora se avete fortuna e indovinate Io me ne vado Secondo me la dobbiamo sparare Perché loro al prossimo round la indovinano Quindi Secondo me loro al prossimo round non indovinano Fere Oh come vuoi Avranno ancora paura E quindi ci ha fatto capire che non è Fabi J E quindi ci ha fatto capire che non è Fabi J O magari Si perde il silenzio O magari è psicologia inversa Chi lo sa? Non vi fidate di Steph È troppo Sto sudando dall'ansia Che abbia pure del nero mannaggia Perché ha quell'interno del cubo Certo certo L'interno del cubo Beh comunque se sbagliate la risposta avete perso Sì Però potrebbe Hai chance di vittoria se ci fai provare a noi Non lo so Ai 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 Questo affronto Io non ho idea Steph Ce ne sono troppi Cioè non saprei Niente Che sparare Cioè la sparerei a caso Proviamo a fargli sbagliare Dai vediamo Indossa Un cappuccio Solo cappuccio Non cappellino Non fascia Solo cappuccio Senti il silenzio Sai cosa? Io ti dico che in base a questo silenzio posso dire che uno sicuramente è Sbrizer O forse entrambi Cioè entrambi hanno il cappuccio O forse entrambi hanno il cappuccio Congratulazioni Abbiamo vinto Dio Esatto Elimina Fabi J Addio Fabi J Boom Tu e le tue domande Ma per una volta che sono in squadra con te fai schifo E' tutta fortuna quando si fa il due contro due Guarda zitto Zitto Voglio fare un altro round No però aspetta io sono curioso Cioè sono curioso di sapere che cosa avreste detto voi per noi Io non ho la più pallida Allora fai fine round che te lo dico Vai vediamo se indovino Ti avresti detto Perché magari pareggio Secondo me uno è Mark O Franci O Buddy No Loco scusa Secondo me è Franci Franci secondo me Risposta definitiva L'accendiamo? Sì L'accendiamo Avete indovinato uno Mark Mark L'altro? L'altro è il big ladro Ok Ah porca miseria Per deciso Sì 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 Nero del cappello e degli occhi Sì sì no hai ragione Ok Oh bella però C'eravate veramente vicini A questo avevate tante teste Allora capisci la mia strategia Esatto Ok perché è una buona strategia Eh allora dimmi Guarda e capisci Ok così Così Hai capito? Perfetto No Devi comunque selezionare Però Così Questo Eh quello che pensi Eh quello Così Sì non ci penseranno mai A queste due persone Perché sono due persone Che è Ok Sì ma mi fai perdere di nuovo Vai Secondo me ci pensano Vai Noi due abbiamo trovato la tattica Per vincere Così Sì Sei sicuro così Vai Guardali bene Sei sicuro Ok Sicuro start Ora toccherà a noi Iniziare Noi abbiamo la tattica per vincere Tante domande Se le fate sarà uno sì uno no Ci fa di nuovo perdere Io ve lo dico Allora Ci fa di nuovo perdere Ok prima domanda Fai farla fare a Fere la prima Va bene Vai Fere No io voglio rifare la mia stessa domanda Se ha qualcosa in testa Ok Uno sì uno no Uno sì uno no Ecco E immaginavo Bisogna giocare di logica Chiediamo di colori I colori Colori Ok Chiedi il colore che c'è di più Io Perché guarda Blu c'è Mark Steph Kendall Roby Loki Favi J Buddy Sbrizer Quindi a prescindere L'unica cosa saremmo fregati Se uno sì uno no Però essendo che ce ne sono tanti Di blu È possibile che siano entrambi blu Che abbiano entrambi il blu Stai per mani impassibile Franchicoso c'è il blu Franchicoso c'è il blu sotto Ma no dai Quello non vale Come no certo che vale Eccola Eccola Guarda subito No lo dicevo per voi Che sono diventate matti Ma non ce li fare Vabbè Non mi metto più in mezzo Franchicoso non c'è Che vuol dire non c'è Hai sentito come l'han detto Non hanno scelto No No era per voi raga Perché dicevo dai Quanti Ma in giù E i matti Cosa siete su Death Note Allora Io Franchicoso lo toglierei Le skin hanno il blu Le skin hanno il blu Qualunque tipo Anche occhi Non sono vestiti Sì 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 Entrambe Sì Entrambe Vai Te l'ho detto Te l'ho detto Bella faccia via Guardali Li abbiamo spaisati Metti un po' di musica di tensione Metti un po' di musica di tensione Guarda Steph come guarda il muro Però Ci siamo Che in testa uno si uno no Però aspetta anche questo Steph E guarda la testa Svezzerino in testa del rosso Eh sì Puoi toglierlo Siete tranquilli Siete tranquilli Ok Capisco Capisco Siamo perso la prima testa Sai che potremmo fare la stessa domanda? Quella di prima Quella del rosso Il rosso No Eh ne toglieresti tre in caso Ma Franchicoso Io lo so già che va tolto Aspetta Allora Potremmo togliere Uno due tre Se invece hanno tutti e due rosso Togliamo uno due tre quattro cinque Ce ne restano solo tre Quello che dice lui Non te la ricorda Siete pronti? Uno sì E uno Ok E uno è O Steph O Franchicoso O Sbrizer Sogniamo tutto il tempo Di dire uno sì Uno no Quindi l'ho detto Con un po' troppa enfasi Prego prego Finiamo a sto round No no Ascolta Ale era sprecata Aspetta A te non piaceva Franchicoso Quindi probabilmente O Sbrizer o Steph Ma vuoi che si No no aspetta aspetta Non ho detto che non mi piace Franchicoso Metti alle cose in chiaro Ho detto che dalla reaction Che hanno avuto Sempre che è Franchicoso Volevo dire che non Però ascolta E se avessero scelto di nuovo Kendall Sbrizer Andiamo specifici Vai prova Io ne ho nemmeno Indossa degli occhiali Che siano messi addosso Sopra la testa Come la nostra cara fere Lo diciamo insieme Uno sì uno no È positivo Uno sì uno no È molto positivo Beh non è positivo Sì che non è Io già faccio più Dovamo fare almeno due domande Almeno due domande Uno sì e uno no Fere guarda che sappiamo già Che uno E che Noia O Kendra Stanno facendo gli stupidotti Ma è easy qua Dici E beh certo perché Uno sì uno no Eh sì Eh sì Andiamo Eh sì È proprio quello Eh sì Ha più di un milione su YouTube Forse mi dice uno sì uno no Guarda Io sto controllando Ragazzi Lo picchiamo Siamo sicuri che ce l'avevano entrambi Sì 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 entrambi Allora mi aspettavo la domanda E ho iniziato a guardare i canali Perché non mi ricordo gli stupidi Fammi cercare l'occhio un attimo Perché secondo me Fere ha cercato quello L'occhio a 600.000 Quindi via Ha detto sì entrambi Ok Franticoso Via Avevi ragione Bisognava toglierlo Mark via Buddy via Mi dispiace Buddy Ok Allora Fere Non lo so Oppure possiamo fare La classica domanda Se è maschio o femmina Perché se uno sì uno no Io continuo a dire Che sono questo e questo Noi due intanto Chiacchieriamo Sì 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 Sono femmine? Eh Uno sì uno no Vedi Vedi che ho ragione Hanno scelto loro stessi Lo sto dicendo da due ore Provateci Vediamo Sto riflettendo Che dici? Sta arrivando il pranzo Steph Quindi devi essere veloce È un minuto da qui Mangiamo a fine video Prendiamoci il rischio Kendall E Carly No Lo sapevo Siete certi? Sì 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 Lo sapevo Lo sto dicendo da due round Aspettate 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 però Volete provare a dire la vostra? Sì Senza altre domande Vai Sparatela Vuoi seguire il mio ragionamento? Sì Anche se non mi fido troppo Però sì Non lo diciamo a voce Rompi le tesse Ok E mentre neanche suonato Bravissimo Bravi Comunque ragazzi Io vi devo dire una cosa Ci vediamo nel prossimo video Mentre ciao 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 Ciao